Per Vincenzo Pastore, ex presidente del Comitato Campania della Federcalcio, arriva la parola fine sulla vicenda che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista di una battaglia a colpi di carta bollata. La Corte federale d'appello con la sentenza dello scorso 25 ottobre ha deciso di condannarlo a 5 anni con preclusione da ogni incarico nell'ambito federale. Un provvedimento netto che di fatto taglia definitivamente fuori Vincenzo Pastore da ogni possibilità di far parte in futuro della FIGC. La sentenza è stata emessa dal collegio preseduto dal professor Sergio Santoro che nell'occasione ha riunito i tre ricorsi. Quello proposto dal procuratore federale, quello dello stesso Pastore e il ricorso della Lega Nazionale di Lettanti contro l'incongruità della sanzione inflitta a Vincenzo Pastore. Il procuratore federale ha rideterminato la sanzione infliggendo all'ex presidente del Comitato Campania l'inibizione per 5 anni con preclusione da ogni incarico. Sotto accusa è finita la gestione allegra di Pastore. Secondo la giustizia ha avuto un comportamento doloso. Per la Corte federale d'appello non ha rilevato l'irregolarità di 1.272 partite e ha nascosto l'impiego di 828 calciatori tesserati in gare ufficiali. Con la sentenza di mercoledì scorso Vincenzo Pastore è stato di fatto estromesso definitivamente dalla panorama della Feder Calcio.